Cosa rappresenta il stadio per un piccolo colune? Rappresenta un po' il punto di aggregazione, rappresenta un po' il punto di ritrovo la domenica, rappresenta avere una squadra con cui passare tutte le domeniche sia in trasferta che in casa, un gruppo di amici e un po' anche una passione calcistica che comunque sia tutti abbiamo. Il restyling dello stadio comunale di Capolona passa dall'impegno di tanti giovani che si sono rimboccati le maniche e pennelli e vernici alla mano si sono dati da fare. Siamo un gruppo di amici che non c'entrano niente con la società, non c'entrano niente con l'amministrazione, ragazzi di Capolona che sono attivati per dare una mano. Un'iniziativa di volontariato attivo nata durante il periodo del lockdown, da un'idea dell'assessore con delega allo sport che ha subito coinvolto nel progetto un gruppo di amici. Il distanziamento è stato una delle cose più difficili da affrontare perché in un paese tra virgolette piccolo come Capolona in cui la sera durante la settimana magari ci ritroviamo tutti al bar oppure nel centro del paese, non potersi vedere per due mesi interi è stato un momento difficile. Quindi appunto per quello abbiamo deciso di effettuare questi lavori anche per ritrovarsi e per recuperare un po' il tempo perso. I giovani così spontaneamente si sono offerti di realizzare piccoli interventi di manutenzione dimostrando sostegno nei confronti della realtà sportiva locale ma anche di tutto il territorio. Stiamo in questo momento ritinteggiando la tribuna dello stadio e nelle settimane scorse abbiamo prima scartato le ringhiere, preparato un po' tutto per essere rinverniciato, andremo avanti le settimane prossime e poi ci dedicheremo agli spogliatoi che anche quelli hanno bisogno di essere un attimino riguardati. Al lavoro per tutta l'estate? Al lavoro per tutta l'estate, chi magari è in ferie ci alterniamo, però continueremo nelle prossime settimane per tutt'agosto fino alla ripresa del campionato o perlomeno finché non avremo finito i lavori. Insomma, una bella e lodevole iniziativa che adesso potrebbe essere replicata anche in altre realtà sportive. Noi vogliamo che sia da esempio anche per gli altri comuni ma per le altre società, per le altre realtà sportive che in questo momento appunto hanno difficoltà sia per rintracciare i sponsor sia proprio a livello economico speech. Quindi noi vogliamo aver fatto il primo passo, stiamo pensando addirittura di costituire un'associazione vera e propria non tanto che sia limitata al calcio qui a Capolona ma che possa dare una mano e contribuire proprio con le realtà di Capolona in senso generico.